Vahekuji e ben ritrovati al vostro angelo in crono antoni in questo nuovo episodio di yokai watch 3 Ok la visuale ha un po' quello che è Ah ma lì al... ok qui dai Pensavo facesse il gioco Bene come stavo dicendo io sono qui perché sto cercando un amico il dottor Volalt E ho bisogno del tuo aiuto Dottor Volalt Immaginavo che una fanatica dello spazio come te lo conoscesse Ho già sentito questo nome da qualche parte Che caspita Oh si 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 Il dottor Volalt è il più grande specialista nell'ingegneria aerospaziale Nessuno sa più cose di lui sullo spazio E che ci farebbe un pezzo grosso come lui nella piccola Valdoro? Questo non te lo so dire Ma comunque devo incontrare Volalt Devo per forza Per questo sto cercando di raccogliere info dagli yokai di Valdoro Quindi ho bisogno di friends yokai Però le fatte che non sono così bravo a fare amicizia Con me caschi malissimo allora neanche io sono brava Ma ho sentito delle storie Storie di un umano in grado di fare amicizia con tantissimi yokai E perché non vai da questo umano? Ci ho provato Ho cercato il lungo e il largo per la città Ah Ma non importa perché ho incontrato te È l'universo che ci ha fatti incontrare Quando hai visto l'ufo che hai watch I tuoi occhi si sono illuminati come quelli di Volalt Davvero? Senti Io capisco quello che intendi ma Wait aspetta Prima che tu dica altro Vorrei presentarti qualcuno Parti sotto No Io la compro da lui Mi pare di ricordare che stessi cercando disperatamente questo OMG OMG Modellino edizione super limitata Bando alle ciance Andiamo a trovare Volalt Difficile da convincere Dobbiamo darci una mossa Se vogliamo trovare Volalt Andiamo Davvero? Cercheremo da GoModel al caffè a Oreliet E al teatro vicino Armonia Ehm non credo che il dottor Volalt frequenti certi posti Io invece ne sono certo Lo troveremo in un batter d'occhio Luna Fredderazzi Che c'è Osapion Questi luoghi pudoleranno di yokai Potresti finire nei pasticci se provano ad affrontarti Sarà meglio che ti spieghi come funzionano le battaglie Ma l'abbiamo appena fatta una Bonus unione ed evoluzione Vabbè questo lo sappiamo no? Grande ne sei parecchio Già che ci siamo la mia abilità si chiama modalità invasore Bello bello è sicuramente super forte Ma dobbiamo trovare Volalt adesso Come osi almeno fai finta di ascoltarmi Oh dobbiamo trovare Volalt dal caffè Oreliete Non credo proprio Dov'è questo qua? Ma è un maid caffè Andiamo al maid caffè Bentornata signorina Ma grazie Sei sempre così gentile Le mie ricerche dicono che questo è il caffè più di tendenza Non credo che il dottor Volalt possa essere interessato a queste cose Volalt dove sei? Ricordo ancora il nostro primo incontro Alla fattura dei conigli Cosa ci facevo in quel posto quando ero così diverso dagli altri conigli? Nessuno pensava a me Ero solo quello strano Ehi assomigliavi tantissimo a funghetto Che caspita è funghetto? Comunque tornando alla storia Ero un nessuno finché un giorno il dottor Volalt mi ha adottato Vieni con me Ti aspetta un futuro stellare Volalt dove sei finito? Non smetterò mai di cercarti Mai Andiamo via So come funziona un maid caffè Però Non è il momento di andarci Ah non è qui? Mamma mia Troppo messi male Cosa? Perché devo uscire? No no aspetta fammi capire Praticamente ho diversi posti da visitare Però mi riusci di andare qui Andiamoci Ok questi yokai ora Li affronto ma li taglio Le battaglie perché sennò Perdiamo tempo Oh mio dio Geniale ma ciao Sennò 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 Quanto sei imponente Lo sappiamo Vino a vedere Questa Sì che arte Ah non mi pare che il dottor Volalt Si da queste parti Volalt No tutto quanto è la storia Ha condiviso con me il suo sogno Raggiungere le stelle In pratica ti asuto come caiva del laboratorio spaziale Sbagliato non capisci Eravamo migliori amici Quando vedevo quella scintilla nei suoi occhi Sentivo di poter fare qualsiasi cosa Per questo devo incontrarlo di nuovo Il dottor Volalt Sarà davvero in questa piccola città Probabile O forse no Ok devo andare su ora Wow Ah ok Ah Dalle gnakebi Uh teatro Ehm Pronti Eccoci Ok Guarda che robina ragazzi Più o meno è così il teatro Delle gnakebi Spalanca gli occhi Mortale Hai davanti a te la più rara delle rarità Lo sfavillante completo della sole Unica fiona delle vicine armionia Non è straordinariamente straordinario E fiona incantevole e carina Che resisterebbe a suo punteggio carisma Non crederebbe che il dottor Volalt Possa essere da queste parti Volalt Non dimenticherò mai il giorno in cui ti ho incontrato Piccolo Sarai la creaturina più felice al mondo Guarda lassù Oltre alle stelle Lassù È pieno di cose da scoprire E tu sarai primo a vederle da vicino Sarai i miei occhi Nello spazio Quindi sì In pratica ti stavo usando come cavia del laboratorio spaziale Giusto? Sbagliato Sbagliato Non era una cavia Ma caro e filato amico Avevamo lo stesso sogno Qualcosa non torna Perché mai un uomo che sogna lo spazio dovrebbe essere in questo posto sperduto Questo può voler dire solo una cosa Che peccato non aver trovato Volalt Non temere gentilu sapien La nostra impresa non termina qui Ma la riprendiamo domani a casa E quindi è ora di andare a casa Bene 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 Così terminiamo anche questo episodio Eccoci qua C'è chi salta C'è chi no Oggi sono riuscito a visitare un bel po' di posti a scintilla Teme Lo sapevo Sapevo che mi stavi solo prendendo in giro E io? Già mai? Non ti avrei mai preso in giro Sono solo andato dove tutti i fanatici come noi sarebbero andati Per quel che ne sappiamo è fan numero uno delle sedi orbelle Davvero? Razza dittemi Oh scusa 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 Troppo forte Sapien Troppo forte Non c'è nulla da fare Ehm in ogni caso Come mai vi siete allontanati tu e il dottor Volat? Eh già perché? Non eravate i migliori amici? Ma cosa? Perché? È stato un incidente ok? Il razzo è esploso mentre testavano i motori Ed io ero nel razzo Quindi Oh no Volat si è assunto la responsabilità dell'incidente lasciando il laboratorio Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto Ero diventato uno yokai ed ero solo Poi ho sentito voci che dicevano che sarebbe venuta Baldoro Ora si spiega tutto Devo rivedere il dottor Volat almeno un'altra volta Ma sta carne è pronta? Oh guarda che belle bistecche Niente carne e niente vita Si dia il vio al barbecue Bar-be-queu Bar-be-queu Sto barbecue Oh si mangia Dai dai vediamo un po' Più chicchi raccogli più oggetti buoni ricevi Che bello aspetto Davvero Che buon profumo Yeah Via tu Lo spiedino Sbagliato Lo spiedino più a destra È sicuramente quello più buono Perché c'è anche il peperone Uh finito Ah no 20 bocconi ho fatto Ah no Punteggio 19 Cosa? Di già segreti dell'anima Non ho da paura segreti dell'anima Però io assegno a fine gioco Prima di fare il boss finale Non li uso prima Li do alla fine per aumentare proprio al massimo la potenza della squadra Grande Pare che siamo tutti pieni È ora di iniziare a sparecchiare Ho mangiato tantissimo Sto esplodendo Il miglior barbecue di sempre Che dizzo Non riesco neanche a muovermi Sei sempre saluto indolente Questo doveva essere un nuovo inizio Sapete Era preoccupato per questo trasloco negli USA Ma se le cose continuano ad andare così Non ci sarà nulla di cui preoccuparsi Non c'è nulla di cui preoccuparsi Stai tranquillo Andrea Non devi preoccuparti di nulla Se con te c'è Whisper Il valletto yokai È proprio quello di cui dobbiamo preoccuparci Come osi Ragazzi ragazzi Calmi Comunque Andrea D'ora in poi gli USA sono la tua casa È la casa di molti American Yokai Farai tante nuove amicizie Sicuro Nella potrà fermarci American Yokai Preparatevi Continua Bene Però continua in Giappone E va bene Molto bene Luna Allora Ci sono novità su Volalt Davvero? Davvero Che novità Dov'è? Pare che sia stato ricoverto Nell'ospedale di Valdoro Centro Ospedale Sta bene È malato Che gli succede? Questo non lo sa Non lo dice Non lo dice? Allora per portarmi Dove si trova il dottor Volalt Io non sono riuscito a trovare info Figurati in ospedale Ma è primo risultato online Ma che diamine? Pare che il dottore sia molto famoso Tra i fanatici aerospaziali Ha solo cercato un luogo Dottor Volalt Ed è subito visto fuori È stato così facile? Quindi tutti questi sforzi Per nulla? E continua Anche per l'usagio Nel prossimo episodio Eccolo Eccolo E con questo Tutti gli eventi Sono allineati Ora rilassiamoci Rilassiamoci E guardiamo Blatter E' il prossimo Wifi Vuoi sapere che ne penso Sally? Ovviamente no Signore e signori Ora potete scegliere Che storia continuare La mia storia è negli usa O la mia Nella cara Vecchia Valdoro Hai una buona scelta Come on Decidi tu Oh Che indecisione Che meraviglia C'è l'imbarazzo Della scelta Certo Certo Piuttosto Abbiamo del lavoro Ottimo Quindi nel prossimo episodio Potremo continuare La storia in America O la storia in Giappone Quale storia continuiamo? Qualunque sia la nostra scelta Poi Dovremmo Comunque sia Fare anche l'altra Mi andrò a rivedere Il vecchio let's play Di sushi E vedrò Quale ho scelto La scorsa volta E sceglierò Quello opposto In modo da non Ripetermi Diciamo Allora Ogni modo Kuj Per questo video è tutto Ed io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo In descrizione I link per Twitter e Instagram E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bye bye